Cominciamo, sasso, carta, forbici. Sasso, carta, forbici. Sasso, carta, forbici. Ecco, risolto. Un virus, distinto di sopravvivenza, riesce a sorpassare l'intelligenza. L'umanità non è mai riuscita a sconfiggere davvero un virus. Quindi il nostro libro si sbaglia? Sì, si sbaglia. Che succede? Tenetela a perdere. Tenetela. Cambiamo! Che sta succedendo? È train to bus up. Zombie. Perché gli zombie sono a scuola? Dovrebbero essere nei film. Un virus. L'umano contagiato è completamente terrorizzato. E a quel punto attacca per sopravvivere. Meglio un mostro vivo piuttosto che avere un figlio umano morto. Moriremmo tutti. Non ci sono più speranze. Ma prego, ci aiuti. Mi dispiace. Mia figlia mi aspetta. Dio Malone, avanti. Dio Malone, Dio Malone. Dio Malone! Dio Malone! Teniamoci per mano. Non lasciamoci. Sono qui. Non lasci grains. Non lasciato. Mi dispiace. Grazie a tutti